buona settimana che comincia buona settimana che comincia in compagnia di legal community e lasciatemi dire questa settimana in compagnia anche di finance community è la settimana della finance community week da oggi lunedì 14 novembre fino alla fine di questa settimana saremo praticamente distanza al four season di milano con tutta una serie di incontri convegni seminari in cui i protagonisti di questo mercato del mercato finanziario esponenti dell'economia reale ovviamente avvocati e così via si troveranno ritroveranno per discutere assieme gli scenari che ci aspettano in questa fine anno ma soprattutto nel 2023 le come dire tinte dell'orizzonte non sono particolarmente brillanti ma ma stiamo vedendo tutta una serie di indicatori che in qualche modo ci dicono che la capacità di resistenza rispetto ai venti recessivi che cominciano a soffiare potrebbe essere maggiore di quello che si pensa però insomma staremo a vedere la palla di cristallo ancora non ce l'abbiamo invece quello che abbiamo è la nostra capacità di osservazione del mercato dei servizi legali d'affari e in questo momento come dire uno dei tanti temi che sta emergendo è nuovamente oserei dire quello dei nomi da dare alle proprie organizzazioni agli studi legali ai progetti professionali che nascono in questo periodo perché dico che è tornato alla ribalta il tema il tema torna alla ribalta perché tanti sono i progetti che stanno partendo in questi anni e sempre di più c'è da parte dei professionisti l'attenzione a evitare di personalizzare eccessivamente l'organizzazione a cui si dà vita che è una come dire un'intenzione lodevole perché se non altro dimostra che gli avvocati italiani una parte degli avvocati italiani cerca di fare tesoro di quello che ha imparato nel corso di questi ultimi vent'anni e cioè che i personalismi nella professione sono più in realtà forieri di problemi che non di opportunità e fino a qui poco poco cambia diciamo rispetto all'attuale quello che però tanti ancora non considerano è che lavorare su un naming di fantasia o una sigla è qualcosa di molto complicato noi l'anno scorso abbiamo fatto il primo atlante dei brand legali italiani che sia mai stato realizzato questo con due scopi uno quello di fornirvi fondamentalmente uno strumento di studio cioè capire come hanno fatto quelli che l'hanno fatto diciamo bene e prendere ciò che di buono essi hanno fatto per provare a replicarlo come dire declinandolo sulla base della vostra struttura delle vostre esigenze del vostro studio ecco quello a cui stiamo assistendo pochi giorni fa il mio collega giuseppe salemi me lo faceva notare e che invece nascono studi che per esempio hanno tutti lo stesso nome ovvero hanno tutti la stessa sigla che magari sta ad indicare un nome diverso ma che alla fine si riduce in un xxx che è esattamente uguale a quello di un concorrente se non addirittura a quello di società che sono sul mercato e che fanno tutt'altro business solo che può accadere che queste società siano sul mercato da molto più tempo dello studio legale xxx di turno e che queste società abbiano una scusate il tecnicismo ma una indicizzazione del loro nome sul web molto più forte di quella dello studio xxxx e quindi il lavoro che viene fatto dagli avvocati di questo fantomatico studio xxxx che spero non esista e lo dico così come dire come caveat dico xxxx semplicemente per intendere una sigla qualsiasi non mi sto riferendo a nessuno nello specifico chiuso la parentesi e la postilla al di là di quelle che siano le loro intenzioni in realtà lo sforzo che viene fatto per spersonalizzare lo studio si riduce a un buco nell'acqua perché oggettivamente non si riesce più poi a ricondurre quella sigla o quel brand o quel nome di fantasia a soggetti effettivamente esistenti a soggetti effettivamente operanti sul mercato e quindi grande o piccolo che sia stato lo sforzo anche in termini di investimenti finanziari per arrivare alla costruzione di un brand spersonalizzato in realtà si risolverà in un grandissimo nulla di fatto per cui recuperatevi i numeri di maghi in cui abbiamo raccontato l'atlante dei brand andate andate a vedere anche quali sono stati i professionisti società esterne agli studi legali che hanno lavorato a questi brand provate a capire quali sono le esperienze secondo voi che hanno avuto più successo e quelle che ne hanno avuto meno ricordatevi che la spersonalizzazione di facciata in realtà serve a pochissimo e che quindi se davvero volete spersonalizzare uno studio non è tanto con il nome o col brand che lo farete ma lo farete con la governance dello studio dopodiché fatemi sapere qual è stato il risultato di questa vostra personale interna due diligence buona finance community week a tutti quanti noi ci vediamo la settimana prossima con un super numero di mag ciao